Il prorettore per la ricerca scientifica che anche rappresenta il magnifico rettore che non può essere presente e il dottor Corrado Caruc che è responsabile dell'azione 3 del programma Fixo quindi del progetto che realizziamo attraverso questo master, questo corso di alta formazione quindi questa giornata è prevista così che ci sono appunto oltre agli indirizzi di salute le considerazioni delle persone che vi ho indicato e poi una relazione che ci introduce alla tematica più generale di innovazione del rapporto tra innovazione e sviluppo delle imprese che tiene la professoressa Ernestina Giudici che è ordinario di gestione delle imprese della nostra facoltà di economia della nostra università e che è anche qui in una ulteriore veste perché la professoressa Giudici è anche amministratore unico di uno dei centri di competenza che ha dato luogo all'ATS che insieme all'Università di Cagliari promuove il corso di alta formazione per esperti in trasferimento tecnologico presenteremo anche la figura professionale o lo farò io insieme alla dottoressa Valentina De Murtas che è anche poi il referente organizzativa del corso ovviamente ci sarà forse anche spazio per qualche intervento ma insomma comunque magari nel tempo avremo modo di scambiarci molti punti di vista, considerazioni e esperienze nel corso dell'attività, del percorso formativo che oggi inauguriamo e voglio ricordare che anche c'è stata già un'anticipazione di questo percorso formativo sono numerose le iniziative per quanto riguarda lo sviluppo di imprese giovanili o comunque legate all'università cerchiamo noi un po' di mettere a sistema queste varie interventi ce n'è uno in corso per lo Star Cup cerchiamo di metterle a sistema o anche proponendo le diverse opportunità ai nostri giovani laureati di modo che si possono cogliere anche diciamo occasioni formative anche in percorsi diversi e poi a modo di bricolage sarà la persona che in fondo presidia in ogni caso il suo percorso formativo diciamo che dal punto di vista della formazione non esiste apprendimento se non c'è diciamo forte presidio anche con forte motivazione da parte della persona quindi è la persona che diciamo deve inserire tutte queste iniziative, tutte queste opportunità dentro il percorso personale che è poi un percorso di vita che si costruisce va bene quindi io do subito la parola al dottor Corrado Caruc che un po' a cui chiediamo anche di inserire questa nostra attività di Cagliari nell'ambito del più generale programma nazionale e anche nelle politiche rispetto alle politiche che sta portando avanti complessivamente il livello politico quindi il governo, il ministero del lavoro Italia Lavoro che è uno degli strumenti principali del ministero del lavoro per quanto riguarda le politiche di sviluppo delle politiche dell'occupazione fondamentalmente questa è l'occupazione quindi chiediamo anche di darci questa più generale visione in cui noi stiamo inseriti nel realizzarne una parte appunto in questa iniziativa che inauguriamo oggi ci sarà spazio ovviamente anche di interventi vostri come ho detto quindi la parola al dottor Corrado Caruco dirò poi sono presenti in sala anche colleghi dell'università docenti e dei centri di competenza è presente anche la dottoressa Alessandra Irde che è sempre in Italia Lavoro vedo anche il dottor Luigi Zucca che è un nostro anche consulente del settore dei commercialisti quindi un settore molto importante rispetto al fare impresa grazie a tutti